Riconoscimento particolare per l'ambito pugilistico. Questa mattina in Palazzo D'Arnolfo a San Giovanni l'amministrazione comunale ha premiato il sangiovannese Marco Consolati in qualità di allenatore del boxer Alessandro Reguccini, anche lui presente ed omaggiato, vista la sua doppia difesa del titolo mondiale WBC per i pesi welter. Spazio dunque da parte del comune ad una disciplina che normalmente, sbagliando, è chiamata minore. Stamattina abbiamo dato il riconoscimento simbolico a Marco Consolati e Alessandro Reguccini che qualche settimana fa in Sud America hanno dato prova di un valore importante, è stato riconquistato un titolo di pugilato importante relativo ai pesi welter silver mondiali. Per noi è un momento sicuramente importante perché accanto ad altri sport tradizionali che sono molto seguiti anche in ambito comunale e territoriale, uno sport come il pugilato al suo riconoscimento. Marco Consolati è un sangiovannese doc, è un allenatore professionista di pugilato ed è stato uno dei primi allenatori di Alessandro Reguccini. Quindi una mattinata veramente di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Il lavoro che viene fatto in sordina e dietro le quinte è veramente tanto, come quello di tutti i preparatori, di tutti i tecnici. Poi naturalmente e giustamente la punta dell'iceberg è l'atleta perché è l'attore principale, però avere un riconoscimento anche noi tecnici fa molto molto piacere. Abbiamo difeso questo titolo già per la seconda volta, quindi speriamo che proprio il luce di questo, il luce anche che ha un record imbattuto dopo 24 incontri, ci sia questa opportunità che tutti i pugili sognano di combattere per il titolo mondiale assoluto. Siamo nella piena facoltà di dire queste cose e ci prepareremo nel migliore dei modi come abbiamo sempre fatto altronde.